ora vediamo come si aprono i file invece da un iphone allora clicchiamo sulla serie voi scegliete il link che vi serve di più ovviamente in questo caso io ho scelto gli arghi che butta sul sito sempre di elena scegliamo la pagina che la puntata che interessa messo la 32 ad esempio apre con questo server allora anche in questo caso in quanto si tratta di iphone dobbiamo aprire con la bussolina in modo che butti su internet quando butta su internet clicchiamo su play apre delle pubblicità in questo caso bisogna andare su queste finestrelle chiude che la pubblicità che sono aperte che possono essere anche più di una e torniamo al video che ci interessa può essere che questa cosa debba essere fatta più volte in realtà più vi collegate al sito meno volte vi chiedono di aprire le pubblicità quindi continuiamo sempre a cliccare su play la pagina inizia a caricare finché parte un'altra pubblicità clicchiamo nuovamente su play finisce di caricare la puntata parte in questo caso per ingrandire basta cliccare su queste quadratini in fondo e la puntata si apre in modo che se giocate il cellulare venga a schermo intero finché 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 finché